Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, oggi un'altra analisi di gameplay di consueto come ogni lunedì oggi è un'altra analisi tratta dal primo torneo competitivo che si è andato a giocare ormai due settimane fa e che stavolta vede protagonista il nostro Cosimo, quindi un altro italiano che è andato a giocare una partita di altissimo livello contro quello che poi è andato a vincere effettivamente il torneo, quindi il buon Oli Boli una partita che secondo me ci darà tanti spunti per quanto riguarda l'analisi soprattutto della fase difensiva perché dal nostro italiano è stata fatta soprattutto nel primo match una vera e propria masterclass sotto questo punto di vista giocando contro uno dei giocatori più forti in fase offensiva, quindi ho deciso di portarvela, spero che vi piaccia come al solito mettetevi comodi e passiamo subito sulla schermata in game vedete qui che è tutto pronto quindi non ci resta che schiacciare play, vedete anche la nostra solita lavagna tattica a bordo schermo Cosimo in maglia arancione, Oli Boli in maglia argentina che attacca da sinistra verso destra con questo kick off e già da queste prime battute di gioco possiamo analizzare come la chiave per poter eseguire una difesa perfetta senza lasciare buchi che possano andare a innescare quelli che sono i filtranti che abbiamo visto utilizzare a più ripetizioni è quella di difendere il più possibile con i centrocampisti sulle linee di passaggio aggredendo il portatore di palla e andare a selezionare i DC solamente quando effettivamente richiesto dall'urgenza del caso quindi senza fare uscite troppo avventate come magari facevo anche io in passato mi ci sto convertendo un po' a questo stile di gioco comunque non disdegnando le uscite e le uscite alte vedete qui come Oli Boli vado a prendere Varano solo all'ultimo momento ma qui difendendo anche male perché qui è stato poco reattivo negli switch e ha lasciato il tiro al buon Neymar guardate Cosimo con quanta pazienza va a buildare ogni sua azione è veramente uno dei migliori secondo me a far girare il pallone e a non gettare mai alcuna occasione veramente con una pazienza infinita Oli Boli come vi ho detto in fase di presentazione del match è sicuramente uno dei giocatori più pericolosi sotto il punto di vista offensivo qui subito un filtrante lungo che però trova il buon Cristiano Ronaldo in posizione di fuorigioco e per questo motivo vi ripeto è una partita che sarà doppiamente interessante per quello poi che sarà l'esito finale che ovviamente non vi vado a spoilerare vedete Cosimo come coinvolge alla manovra offensiva quelli che sono tutti i giocatori soprattutto i centrocampisti vedete come Giostra palla tra Viera e Llorente al fine di liberare le due punte qui buono il passaggio di Viera che però viene eletto ottimamente alla difesa con il buon Varane stessa cosa che ovviamente fa Oli Boli riparte alla massima velocità con Bruno Fernandes spalla in zona Neymar guardate qui come Cosimo temporeggia alla perfezione con i mediani questa è una prima situazione che mi sento da andare un attimino ad analizzare perché questo è proprio quando io vi dico difendere switchando talmente rapidi che sembra che insomma voi state difendendo con due giocatori allo stesso momento convierà selezionato lui si va a temporeggiare in questa porzione di campo praticamente cercando di coprire sia un eventuale passaggio in questa zona di campo sia chiaramente il passaggio ben più pericoloso in questa porzione di campo la mossa successiva sarà quella di switchare su Marco Siorente quindi indicatore che andrà esattamente qui per accorciare ulteriormente in questa zona ed evitare in questo caso sia il passaggio qui sia il passaggio al suo altro centrocampista quindi guardate infatti come si svolge l'azione vedete come switcha con Iorente switch un'altra volta si avvierà vedete come il suo obiettivo sia quello di ridurre praticamente quest'area centrale guardate ve lo faccio vedere praticamente lui con quelle switchate molto molto rapide ha come obiettivo quello di andare a coprire tutta questa porzione di campo qui che è una porzione di campo pericolosa perché chiaramente mette in condizione di poter ricevere palla Cristiano Ronaldo e puntare la difesa quindi guardate qui come esegue esattamente alla perfezione questo movimento guardate come stringe e riduce la distanza tra i due centrocampisti qui secondo me switchate un po' tra virgolette di panico nel senso che la palla doveva finire avvierà cosa che infatti accade adesso esattamente che però viene portato un po' fuori posizione però è abilissimo a recuperare vedete come si è rimesso in posizione guardate come è attento a non selezionare i difensori per evitare che anche un minimo movimento possa portarlo fuori posizione salvo poi switchare con un tempismo veramente perfetto su un Gimenez che va ad anticipare il buon Panzer Fenomeno ripartendo anche con una buona azione di contropiede di fatti palla viene recuperata in zona abbastanza alta mentre l'Iboli stava attaccando e quante volte vi ho detto che la palla recuperata alta vi permette di ripartire anche in un modo abbastanza pericoloso qui solita calma olimpica vedete come l'azione parta sempre dall'esterno come vi ho spiegato mille volte con la classica scaletta che innesca tutta una serie di movimenti tra l'altro qui potete notare come Cosimo abbia cercato di sorprendere l'avversario utilizzando in questa partita i terzini su attacco equilibrato quindi non resta dietro che aggiornano la manovra offensiva e danno tante opportunità in più qui aveva cercato una gran palla dentro che però non viene data con i tempi giusti e quindi il portiere è bravo a intercettarla e evitare quei peggiori guardate qui ancora una volta come tempo regge in maniera molto molto paziente con Viera e devo dire la verità è una partita che mi fa molto piacere riguardare perché insomma è vedendo questa che ha ispirato anche un cambiamento nella mia di fase difensiva facendomi realizzare che insomma la chiave fosse quella di rimanere un po' più passivi qui guardate come la palla la vado addirittura a recuperare Neymar quindi selezionando un giocatore alla volta andando a seguire la switchata sul giocatore successivo quando effettivamente solo quando effettivamente il giocatore in questione viene saltato qui guardate come è abilissimo in mezzo al campo a creare queste azioni qui Allison fa veramente un miracolo clamoroso i classici miracoli che i portieri fanno solo contro e quando poi invece capita a noi magari se la buttano loro dentro alla cocea contro il Cagliari per chi insomma ricorderà qua Jimenez recupera una gran palla vedete come anche Oliboli è molto bravo a non cadere in errore vedete come giostra benissimo il pallone Cosimo per avverire la squadra avversaria cosa che effettivamente Bravo riesce a fare qui probabilmente questa ve la voglio far rivedere non è stato proprio lucido al 100% è chiaro che ovviamente a guardare da fuori è tutta un'altra cosa senza pressione però ovviamente fa parte delle analisi perché guardate qui una volta che lui prende questa posizione esatto lui qui Gomez l'ha superato se avesse aggredito questa porzione di campo qua con il doppio passo piuttosto che tornare indietro e facendo il gioco di Gomez che aveva puntato esattamente in questa zona lui praticamente si sarebbe ritrovato in questa posizione libero di calciare in rete però purtroppo non ha letto bene il movimento di Gomez quindi non fa altro che fare il gioco del difensore che recupera palla con questo con questo autoblock sul tiro Oli Boli però c'è da registrare appunto in grande difficoltà e vi ripeto è il giocatore che A ha vinto poi alla fine il torneo B un giocatore che insomma è famoso all'interno della scena competitiva per quelle che sono le sue doti offensive al momento la difesa di Cosimo è stata veramente impeccabile a questi livelli la difesa sembra quasi una partita a scacchi vedete come si muovono i pedoni solamente al momento giusto guardate qua che bella difesa con questo anticipo di Walker ma avete visto ancora una volta come abbia seguito con Marco Ossiorente il portatore di palla fino a quando esso non era rimasto chiuso da da Mendy che però non era controllato e quindi il buono Oli Boli è dovuto poi tornare indietro qui intanto classica giocata di Cosimino in mezzo al campo con molta pazienza un doppio passo di qua un doppio passo di là per cercare di aprire la difesa dello svedese qui con Neymar che si trova abbastanza isolato ma come vi dicevo guardate com'è bravo sempre a resettare l'azione dalla zona di fascia e a cercare l'azione a scaletta qui con Rashford ancora una volta cerca di disorientare i difensori avversari bellissimo questo bridge palla poi dentro per Neymar si gira alla perfezione con questo doppio passo e va a segnare la rete del vantaggio quella che è un'azione è proprio una masterclass questa offensiva bravissimo anche subito a difendere questo kickoff e primo tempo che finisce sul parziale di 1 a 0 per il nostro Cosimino che per questi primi 45 minuti addirittura ha concesso al suo avversario 0 tiri totali quindi non solo 0 tiri in porta proprio 0 tiri totali impeccabile Cosimino uno dei giocatori attualmente migliori in Europa se non se non ovviamente al mondo veramente il suo stile di gioco mi fa impazzire lui lo sa quanto lo stimo è uno stile di gioco che è anche molto simile al mio ma lui riesce anche magari a utilizzare le skill in maniera un po' più efficace rispetto a come faccio io quindi è un piacere per me guardarlo perché non si smette mai di imparare a capo lo dico sempre come voi guardate questi video e magari rubacchiate qualche segreto con gli occhi a guardare questi top player anche io vado a ovviamente cercare di integrare qualche dinamica nel mio stile di gioco quindi tanta roba guardate qui come è stato bravissimo con Mendy ad evitare che la palla passasse e Oli Bolli si ritrovasse in campo aperto qui ancora una volta con Marcos viene saltato e allora prende Varane però con l'uscita di Varane costringe Oli Bolli a tornare indietro guardate qui come con Gimenez vada a prendere Ronaldo il fenomeno ma poi switch in maniera molto molto rapida travierà traiorente un'altra volta palla poi verso Ronaldo con lo switch che era avvenuto con i tempi giusti su Mendy perché tanto ormai il passaggio era lungo e Oli Bolli avendo forzato la giocata non riesce a a concretizzare questa azione qui un po' di rischio onestamente perché va bene il doppio passo però insomma fare questo doppio passo con Varane ha rischiato di creare una situazione un po' problematica poi il rilancio era stato perfetto però Ronaldo non va a impattare il pallone nella nella zona di un suo compagno quindi rischiava ancora una volta il contropiede che viene però abilmente sventato allora può ripartire il buon Cosimino guardate come gestisce bene bene il pallone con con Ronaldo che vede l'inserimento di Neymar buono il buon roll qui ancora una volta cerca la classica scaletta però si perde un po' in un nulla di fatto qui se poteva anche provare il tiro a incrociare in maniera tale da sperare in una ribattuta raga ogni tanto provatela la giocata quando siete in quella situazione di campo perché tirare a incrociare da lì spesso e volentieri capita che poi spesso la palla ve la ritrovate tra i piedi del vostro attaccante su una ribattuta facile facile quindi tentatela questa giocata qui ancora una volta Gimenez perfetto in marcatura su Ronaldo saggiamente decide di prendere Viera poi vede il passaggio lungo e riprende Gimenez ma guardate qui come la difesa con Varane e Gimenez è veramente perfetta a coprire lo spazio guardate qua questa ve la voglio far rivedere perché palla su Ronaldo dentro poi verso Neymar elastico guardate qua come aveva praticamente chiuso sia la giocata di Neymar sia il passaggio sul sul fenomeno quindi poi riesce poi a recuperare con il contrasto e a ripartire con con Walker parla poi per Bappé Neymar classica giocata adesso ad allargare il campo dall'altro lato e cercare di allargare la difesa di Olliboli vedete come in mezzo al campo questi passaggi da un lato all'altro vadano ad aprire dei varchi che gli permettono di poter tentare anche le varie imbucate qui con Bappé bravissimo in fascia vedete come cerca sempre la classica azione a scaletta che veramente vi ripeterò fino alla nausea palla poi dentro ancora una volta verso Vieira vedete come coinvolge sempre i centrocampisti che nel 4-2-3-1 ma anche nel 4-4-2 svolgono un ruolo assolutamente fondamentale qui purtroppo perde palla perché si addormenta un po' ma vedete come è abile a selezionare in maniera preventiva a Gimenez perché voi mi chiedete spesso come si difendono i filtranti come si difendono i filtranti i filtranti si difendono esattamente così vedete come Ronaldo sta puntando e vedete lui cosa fa qui a Varane passa neanche un secondo che seleziona Gimenez Ronaldo sta facendo questa corsa a superare il buon Gimenez l'unico modo per difendere questa situazione è switchare preventivamente su Gimenez andare a sfruttare questa distanza che c'è tra difensore e attaccante che comunque è a vantaggio ovviamente del difensore e quindi iniziare a correre e scappare verso la propria porta di fatti come andiamo a vedere facendo così la palla del filtrante finisce esattamente sui piedi di Gimenez che recupera abilmente palla bravo anche qui in questa situazione ve la voglio rievidenziare perché un errore molto comune che si fa è quello di cercare di controllare palla in questa situazione non può esserci errore più grave perché in questo contesto magari l'attaccante guardate quanto è vicino potrebbe recuperare palla con un contrasto quindi lui è bravissimo a liberarsi subito del pallone con un passaggio di prima nella zona di Mendy e guardate che si ritrova anche in una situazione di ripartenza favorevole con Rashford fa abilmente scattare il buon Mendy questa pure ve la voglio far rivedere perché è un'altra situazione tipica guardate qui lui si poggia su Rashford ok nel momento stesso in cui punta verso Mendy schiaccia L1 ok per farlo scattare perché sapete bene che quando si puntate verso un vostro compagno se premete L1 questo scatterà di conseguenza Mendy inizierà il suo movimento a scattare lungo la fascia ok e anche se avete visto lui effettivamente poi il passaggio non l'ha fatto questo che cosa ha contribuito ha contribuito a creare un pericolo alla difesa di Oli Boli quindi questo Walker qui non poteva essere più impegnato a dare pressione a Rashford ma la sua priorità non era appunto questa qui ma quella di scattare a questo punto all'indietro per difendere l'inserimento di Mendy quindi Rashford ha avuto tutto il tempo di poter insomma prendere vantaggio di questa porzione di campo che si è venuta a creare girarsi anche poi verso quest'altro lato perché non era pressato e ricominciare l'azione quindi non dovete avere paura di utilizzare i terzini farli scattare eccetera eccetera perché esatto vedete come si era venuto a creare lo spazio lì nel vuoto perché Walker era scappato all'indietro comunque dicevo non dovete avere paura di far scattare i giocatori anche se non gli servite poi il pallone perché tanto poi torneranno in posizione e voi magari vi siete creati un vantaggio che magari non percepite in un primo momento ma se invece vi andate a riguardare l'azione vedete come quella determinata giocata va creato uno spazio che siete andati a sfruttare inconsciamente intanto siamo arrivati al 72 minacce di Oli Boli pervenute alla porta di Cosimino ancora pari a zero vedete qua come con Ronaldo vada a fare questo bridge anche questa è un'altra dinamica chiave Riberovski come si va a difendere il bridge il bridge si difende alla stessa maniera del filtrante ok perché lui qui è bravo a leggere il movimento del bridge qualora avesse puntato l'avversario il bridge l'avrebbe saltato di netto Ronaldo avrebbe ottenuto un vantaggio si sarebbe trovato in questa posizione e avrebbe potuto tranquillamente finalizzare invece Cosimino bravo lo legge invece di fare questo movimento che è quello sbagliato fa quello giusto che è quello di andare a tagliare la linea di corsa dell'attaccante quindi come potete vedere è proprio quello che accade gli scappa all'indietro e voilà e recupera il pallone addirittura si era messo ancora in una situazione ancora più safe switchando rapidamente su Mendy per evitare anche il passaggio lì in zona più alta quindi davvero GG per Cosimino che sta conducendo una partita difensiva impeccabile e vi ribadisco il motivo per il quale ho deciso di portarvela perché ci sono tanti spunti positivi e spero che stiate apprezzando e ve la stiate gustando tutta perché manco ad essere meno accorto sono qui praticamente che passati 20 minuti il tempo è veramente veramente volato qui un bridge un po' esotico con Walker che regala palla ad Olibolli quando ormai mancano 10 minuti e si sa che questi sono i minuti peggiori per una partita di FIFA soprattutto quando si è in vantaggio qui guardate come al solito va a gestire palla con i due centrocampisti palla per Brunello palla per Viera intercettata ottimamente da Llorente recuperata poi da Neymar qui Ronaldo è un po' isolato magari avrei tentato qui un bridge sul primo controllo però era anche giusto il doppio vasso per poter magari rientrare vedete qui come Olibolli cerca sempre questa giocata filtrante verso Ronaldo ma Varane fa abile guardia Raffaele che giocatore incredibile palla poi ancora una volta vedete come ha fatto un'altra volta scattare il terzino per creare spazio e effettivamente poi trovare il passaggio per Viera che non era più marcato Damendi ancora una volta la palla viene giocata verso verso Llorente Rashford poi palla dentro nella zona di Cristiano Ronaldo doppio passo ancora una volta ad allargarsi ancora una volta a tornare indietro Joe Gomez qui recupera palla ancora una volta R9 a fare da pivot praticamente Olibolli utilizzava R9 da CEC una scelta un po' discutibile secondo me Mbappé si mette sulla linea di passaggio abbiamo anche qua delle inquadrature epiche intanto riprende il game dove la pausa chiamata dallo svedese con Gomez che cerca di portare l'ultima offensiva cercando di sfruttare il il novantesimo ma vedete Cosimo come è bravissimo a creare densità in mezzo al campo e a creare problemi alla manovra offensiva di Olibolli qui Viera ci mette il piedone e recupera e recupera questo pallone riparte anche con un'ultima azione ma termina qui il primo match con statistiche impietose per il giocatore svedese che non è riuscito a calciare neanche una volta in porta e sembra abbastanza triggerato spoiler vi dico spoiler la partita terminerà poi sul complessivo totale se non erro di 4 no scusatemi di 4 a 4 e poi se andrà ai rigori dove purtroppo Cosimino non riuscirà a spuntarlo Olibolli andrà a vincere il torneo ma veramente c'è da fare gli applausi a Cosimo per come ha difeso questa partita e per come difende in generale perché è veramente un top 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 player sotto questo punto di vista raga per questo video è tutto come al solito lasciate un like e un commento mi raccomando iscrivetevi al canale che stiamo andando una bomba mi fa super piacere per tutte quante le info sulle live giornaliere sulla piattaforma Viola le trovate in descrizione io vi saluto se siete arrivati fino a qua commentate con hashtag prosciutto che vedo su sponsor sulla maglia del team Crespo e nulla ragazzi mi raccomando fate bravi ciao